Non eravamo né visionari né matti, un ringraziamento che ha voluto far chiarezza approfondendo la vicenda dell'ampliamento della discarica di Grottaglie in località Torre Caprarica. Sono le parole utilizzate dal sindaco di Grottaglie a margine della sentenza di primo grado del processo nato con l'inchiesta denominata T-Rex con la quale la Guardia di Finanza inquadrò un presunto giro di tangenti alla provincia di Taranto. Lui, il sindaco che proprio ai nostri microfoni, diceva nel 2018 Questa procedura merita maggiore attenzione. Ma qualcuno queste cose in provincia le guarda? Non diciamo nulla, dice Ogidalo, trattandosi ancora del primo grado di giudizio, ma è un primo riconoscimento, prosegue, ad una battaglia di popolo di un territorio. Questa sentenza di primo grado, che per carità subirà sicuramente gli effetti di un appello, di una cassazione, quindi staremo a vedere, ma che in qualche modo attraverso una sentenza di condanna così importante dà un primo riconoscimento a quelle che erano i dubbi, le perplessità su un procedimento amministrativo che era sin da subito stato contestato da me e dai cittadini e che ritenevamo fosse inizialmente solo illegittimo, poi di fatto ad oggi risulta anche illecito. Non eravamo in quell'occasione dei visionari, non eravamo dei matti, eravamo solamente persone che con il buon senso dicevano che quella discarica non si doveva fare perché era illegittima e quindi lo rappresentavamo in tutte le sedi. Nessuno è colpevole finché non c'è la sentenza di terzo grado, quindi la Cassazione lo dirà, ma intanto è un primo riconoscimento ad una battaglia di popolo, una battaglia di territorio e insomma ci vedevamo bene, questo è il senso.